In questo 85esimo anniversario delle suore, della presenza delle suore dello Spirito Santo che appescina, quindi nella diocesi dei Marsi, cosa senti di augurare l'ora? Innanzitutto 85 anni sono una lunga storia. Una storia di dedizione, una storia di amore alla Chiesa, una storia di fecondità pastorale, una storia che certamente ha fecondato questa terra, ha fecondato la città di Pescini. E quindi il grazie del Vescovo a tutte le religiose che lungo questo arco di tempo sono state presenza di Cristo qui a Pescina. A volte si giudicano le suore unicamente per quello che fanno. Invece le suore vanno viste soprattutto dentro la loro profonda identità. La suora è una persona che ha dedicato tutta la sua vita a Dio, che vive una storia di amore assoluta con Dio. Ecco quindi che la presenza stessa delle suore al di fuori della loro attività costituisce per tutti una profezia, un annuncio che Dio è tutto e che se Dio non è un grande amore non è nulla. Ogni suora è una storia d'amore con Dio, è una storia di amore dentro la Chiesa per i fratelli e per le sorelle che incontrano. Il mio augurio ovviamente non può che essere questo, ad ogni suora, singolarmente, continuata ad essere presenza di amore di Gesù, continuata ad essere il segno di Dio che cammina lungo le nostre strade, continuata ad essere benedizione per questa città di Pescina. Auguri. Auguri. Auguri.